ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco avastin rock spa ultimo aggiornamento 11 ottobre 2021 cosa avastino confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia contro indicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere avastin durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli accipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è avastin avastin è un farmaco a base del principio attivo bevacizumab appartenente alla categoria degli antineoplastici anticorpi monoclonali e nello specifico anticorpi monoclonali è commercializzato in italia dall'azienda rock spa avastin può essere prescritto con ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile confezioni avastin 25 mg bar ml concentrato per soluz per inf 1 flaconcino 16 ml avastin 25 mg bar ml concentrato per soluz per inf 1 flaconcino 4 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare rock registratio gmbh concessionario rock spa ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura adesso assimilabile classe h principio attivo bevacizumab gruppo terapeutico antineoplastici anticorpi monoclonali forma farmaceutica soluzione uso interno indicazioni bevacizumab in associazione con chemioterapia a base di fluoro pirimidine è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma metastatico del colon e del retto bevacizumab in associazione con paclitaxel è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico per ulteriori informazioni relative allo stato del recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano r2 fare riferimento al paragrafo 51 bevacizumab in associazione con capicitabina è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico per cui una terapia con altri regimi chemioterapici inclusi quelli a base di taxani o antracicline non è considerata appropriata pazienti che hanno ricevuto un trattamento adiuvante a base di taxani o antracicline nei 12 mesi precedenti non devono ricevere il trattamento con avastina in associazione con capicitabina per ulteriori informazioni relative allo stato di r2 fare riferimento al paragrafo 51 bevacizumab in aggiunta chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule non resecabile avanzato metastatico ricorrente con istologia a predominanza non squamo cellulare bevacizumab in associazione con erlotinib è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule non squamo cellulare avanzato non resecabile metastatico ricorrente con mutazioni attivanti del recettore del fattore di crescita epidermico egg for vedere paragrafo 51 bevacizumab in associazione con interferone alfa 2a è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma renale avanzato a barra o metastatico bevacizumab in associazione con carboplatino epacritaxel è indicato per il trattamento in prima linea del carcinoma ovarico epiteliale del carcinoma alle tube di falloppio o del carcinoma peritoneale primario in stadio avanzato stadio ii b ii c e ii secondo la federazione internazionale di ginecologia e ostetricia figo in pazienti adulte vedere paragrafo 51 bevacizumab in associazione con carboplatino e gencetabina o in combinazione con carboplatino epacritaxel è indicato per il trattamento di pazienti adulte con prima recidiva di carcinoma ovarico epiteliale carcinoma alle tube di falloppio o carcinoma peritoneale primario platino sensibili che non hanno ricevuto una precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori del fattore di crescita dell'endotelio vascolare vasculare endotelial growth factor vegf o altri agenti mirati al recettore vegf bevacizumab in associazione con paclitaxel topotecano doxorubicina liposumiale pergilata è indicato per il trattamento di pazienti adulte con recidiva di carcinoma ovarico epiteliale carcinoma alle tube di falloppio o carcinoma peritoneale primario platino resistenti che hanno ricevuto non più di due precedenti regimi chemioterapici e che non hanno ricevuto una precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori del fattore di crescita dell'endotelio vascolare vasculare endotelial growth factor vegf o altri agenti mirati al recettore vegf vedere paragrafo 5 1 bevacizumab in associazione con paclitaxel e cisplatino in alternativa a paclitaxel topotecani in donne che non possono essere sottoposti a terapia a base di platino è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma della cervice persistente ricorrente o mitastatico vedere paragrafo 51 posologia non agitare il flaconcino avastin deve essere somministrato sotto la supervisione di un medico esperto nell'impiego di medicinali antineoplastici posologia carcinoma metastatico del colon e del retto mcrc la dose raccomandata di avastin somministrata mediante infusione endovinosa è di 5 mg barra chilogrammi o 10 mg barra chilogrammi di peso corporeo una volta ogni due settimane oppure 7,5 mg barra chilogrammi o 15 mg barra chilogrammi di peso corporeo una volta ogni tre settimane si raccomanda di proseguire il trattamento fino alla progressione della malattia o finché non compare tossicità inaccettabile carcinoma mammario metastatico mbc la dose raccomandata di avastin è di 10 mg barra chilogrammi di peso corporeo da somministrarsi una volta ogni due settimane oppure 15 mg barra chilogrammi di peso corporeo da somministrarsi una volta ogni tre settimane mediante infusione endovinosa si raccomanda di proseguire il trattamento fino alla progressione della malattia o finché non compare tossicità inaccettabile carcinoma polmonare non ha piccole cellule nsc lc trattamento in prima linea della nsc lc non squamo cellulare in associazione con chemioterapia a base di platino avastin è somministrato in aggiunta chemioterapia a base di platino fino a sei cicli di trattamento seguiti da avastin in monoterapia fino alla progressione della malattia la dose raccomandata di avastin è di 7,5 mg barra chilogrammi o 15 mg barra chilogrammi di peso corporeo da somministrarsi una volta ogni tre settimane mediante infusione endovinosa il beneficio clinico è stato dimostrato in pazienti con nsc lc sia la dose di 7,5 mg barra chilogrammi sia di 15 mg barra chilogrammi vedere paragrafo 5 1 si raccomanda di proseguire il trattamento fino alla progressione della malattia o finché non compare tossicità inaccettabile trattamento in prima linea della nsc lc non squamo cellulare con mutazioni attivanti dell'eggfri in associazione con erlotinib il test per la mutazione dell'eggfri deve essere effettuato prima di iniziare il trattamento con l'associazione avastin erlotinib è importante che sia scelta una metodologia ben validata e robusta per evitare la determinazione di falsi negativi o falsi positivi la dose raccomandata di avastino in associazione con erlotinib è di 15 mg barra chilogrammi di peso corporeo somministrati una volta ogni tre settimane mediante infusione endovinosa si raccomanda di proseguire il trattamento con avastino in associazione con erlotinib fino alla progressione della malattia per la posologia e la modalità di somministrazione dell'erlotinib vedere le informazioni prescrittive integrali di erlotinib carcinoma renale avanzato e barra o metastatico m rcc la dose raccomandata di avastin è di 10 mg barra chilogrammi di peso corporeo da somministrarsi una volta ogni due settimane mediante infusione endovinosa si raccomanda di proseguire il trattamento fino alla progressione della malattia o finché non compare tossicità inaccettabile carcinoma ovarico epiteliale carcinoma alle tube di falloppio e carcinoma peritoneale primario trattamento in prima linea avastina somministrato in aggiunta carboplatino epaclitaxel fino a sei cicli di trattamento seguiti dalla somministrazione di avastin in monoterapia da proseguire fino alla progressione della malattia o per un massimo di 15 mesi o fino a che non compare tossicità inaccettabile qualsiasi si manifesti prima la dose raccomandata di avastin è di 15 mg barra di peso corporeo da somministrarsi una volta ogni tre settimane mediante infusione endovinosa trattamento della recidiva di malattia platino sensibile avastina somministrato in associazione a carboplatino e gencetabina per sei cicli fino ad un massimo di 10 cicli oppure in associazione a carboplatino epaclitaxel per sei cicli fino ad un massimo di 8 cicli seguiti dalla somministrazione di avastin in monoterapia da proseguire fino alla progressione della malattia la dose raccomandata di avastin è di 15 mg barra chilogrammi di peso corporeo da somministrarsi una volta ogni tre settimane mediante infusione endovinosa trattamento della recidiva di malattia platino resistente avastina somministrato in associazione ad uno dei seguenti agenti paclitaxel topotecan somministrato ogni settimana o doxarubicina liposomiale per gelata la dose raccomandata di avastin è di 10 mg barra chilogrammi di peso corporeo da somministrarsi una volta ogni due settimane mediante infusione endovinosa se vastina somministrato in associazione ad opotecan somministrato nei giorni 1 5 ogni tre settimane la dose raccomandata di avastin è di 15 mg barra chilogrammi di peso corporeo da somministrarsi ogni tre settimane mediante infusione endovinosa si raccomanda di continuare il trattamento fino alla progressione della malattia o sviluppo di tossicità inaccettabile vedere paragrafo 51 studio m o 22 2224 carcinoma della cervice avastin è somministrato in associazione con uno dei seguenti regimi chemioterapici paclitaxel e cisplatino o paclitaxel topotecan la dose raccomandata di avastin è di 15 mg barra chilogrammi di peso corporeo da somministrarsi una volta ogni tre settimane mediante infusione endovinosa si raccomanda di proseguire il trattamento fino a progressione della malattia sottostante o comparsa di tossicità inaccettabile vedere paragrafo 51 particolari popolazioni di pazienti pazienti anziani nei pazienti di età e 65 anni non è necessario attuare alcuna correzione della dose di avastin pazienti con insufficienza renale la sicurezza e l'efficacia nei pazienti affetti da insufficienza renale non sono state studiate vedere paragrafo 52 pazienti con insufficienza epatica la sicurezza e l'efficacia nei pazienti affetti da insufficienza epatica non sono state studiate vedere paragrafo 52 popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia di bevacizumab nei bambini di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite i dati attualmente disponibili sono riportati nei paragrafi 4 8 5 1 e 5 2 ma non è possibile esprimere alcuna raccomandazione in merito alla posologia non vi alcun uso rilevante di bevacizumab nella popolazione pediatrica per il trattamento dei carcinomi di colon retto mammella polmone ovaio tube di falloppio peritoneo cervice rene modo di somministrazione la dose iniziale deve essere somministrata mediante infusione endovinosa di 90 minuti se la prima infusione è ben tollerata la seconda può essere somministrata in 60 minuti se l'infusione di 60 minuti e ben tollerata tutte le infusioni successive possono essere somministrate in 30 minuti non deve essere somministrata mediante infusione rapida endovinosa odolo endovinoso non sono raccomandate riduzioni della dose a seguito di reazioni avverse se indicato la terapia deve essere interrotta definitivamente o sospesa temporaneamente come illustrato nel paragrafo 4 4 precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione vedere paragrafo 6 6 le infusioni di avastin non devono essere somministrate o miscelate con soluzioni di glucosio questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali ad eccezione di quelli menzionati nel paragrafo 6 6 controindicazioni per sensibilità al principio attivo o ad uno a qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 ipersensibilità ai prodotti derivati da cellule ovariche di criceto cinese ch o ad altri anticorpi recombinanti umani umanizzati gravidanza vedere paragrafo 4 6 avvertenze speciali e precauzioni di impiego tracciabilità per migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici il nome commerciale ed il numero dell'otto del prodotto somministrato deve essere chiaramente registrato perforazioni e fistule gastrointestinali g vedere paragrafo vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione effetto degli agenti antineoplastici sulla farmacocinetica di bevacizumab sulla base dei risultati ottenuti da analisi farmacocinetiche di popolazione non sono state osservate interazioni clinicamente rilevanti della chemioterapia concomitante sulla farmacocinetica vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere avastini insieme ad altri farmaci come erbitux sutent victibix eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere avastin durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere avastin durante la gravidanza e l'allattamento donne potenzialmente fertili le donne potenzialmente fertili devono usare misure contraccettive efficaci durante e fino a sei mesi dopo il trattamento gravidanza non vi sono dati gli studi clinici provenienti vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari avastin non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari tuttavia sonnolenza e sincope sono state riportate con l'uso di avastin vedi tabella 1 paragrafo 48 ai pazienti che manifestano sintomi che riguardano la loro visione o concentrazione o la loro capacità di reagire deve essere consigliato di non guidare veicoli e di non usare macchinari fino alla scomparsa dei sintomi effetti indesiderati riassunto del profilo di sicurezza il profilo di sicurezza globale di avastin si basa sui dati raccolti nel corso di studi clinici effettuati su oltre 5 700 pazienti affetti vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio la dose più alta valutata nell'uomo 20 mg barra chilogrammi di peso corporeo per via endovinosa ogni due settimane sia associata in molti pazienti ad una severa forma di emicrania proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica agenti antineoplastici immunomodulatori agenti antineoplastici altri agenti antineoplastici anticorpi monoclonali codice atc l 01 x c 07 meccanismo d'azione bevacinzumab legandosi al fattore di crescita delle cellule endoteliali vascolari vegf promotore proprietà farmacocinetiche sono disponibili i dati farmacocinetici relativi al bevacinzumab raccolti in 10 studi clinici effettuati su pazienti con neoplasie solide in tutti gli studi clinici bevacinzumab è stato somministrato in infusione dati preclinici di sicurezza in studi della durata massima di 26 settimane effettuati su scimmie cinomolgus è stata osservata una displasia epifisaria in animali giovani con cartilagini di accrescimento aperte a concentrazioni sieriche medie elenco degli accipienti 3 all'osio di idrato sodio fosfato polisorbato 20 acqua per preparazioni iniettabili farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di avastina base di bevacinzumab sono ai binti o basi zirabev fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato grazie a tutti grazie a tutti